ah porca di caperità buongiorno signori e signori allora oggi ascoltavo alcuni video su tiktok dove parlava la nostra premier e sinceramente a me del reddito di rdc del reddito di cittadinanza dato a cazzo mi dà pure un po fastidio no? a porco di la madonna perché c'è gente ragazzi c'è gente che ha avuto mille cose le più belle le più antiche del mondo io che amo solo te e non ti perderò e non ti lascerò per cercare nuove avventure e invece qua devono cercare nuove avventure perché? perché ragazzi io conosco tanta gente no? che si è adagiata a questo reddito perché quelle ne piace, quelle ne va buono, quelle ne è buono, quelle ne era buono quindi quello lo dico in italiano penso che mi capite, quello non gli è andato bene, quello non gli è andato, non gli andrà, non lo vorrà allora a un certo punto nulla da dire a Maurizio Costanzo che è una persona che stimo molto però giusto che fa una battuta ed è vero a porco della madonna ed è giusto perché finché una persona a porco della madonna non porti un certificato che non può effettivamente lavorare e non può andare in nessun tipo di lavoro e questo è daiffati daiffati devi andare a lavorare devi andare a lavorare tutto questo paese che si è formato di vitelloni di vitelloni ma tanto io sai quando ne sento vado a lavorare ma tanto ci sta l'uretti che me ne frega e poi magari fanno lavori sotto sotto, non va bene non va bene a porco dei capelli d'aio perché non è che quello vuole togliere vuole ridimensionare per chi ha veramente bisogno e non può ma per chi ti ha bisogno e per chi ti ha bisogno di fatigliare e te li vracchetti li mangiare li ammetti buoni la coccia buona che puoi effetti e te una struttura mentale fisica buona azzambate cioè nel senso andate al lavoro andate perché ridurre una persona invalida quanto non lo è capito perché essere invalida non è una cosa bella a porco dei essere tagliati fuori dai giochi essere tagliati fuori da tante cose ragazzi non è bello perché poi non è che nello lavoro né quello né che l'altro né che l'altro sono tante cose che poi non gay e quindi chi ha veramente un fisico bestiale cioè un fisico idoneo al lavoro deve andare a lavorare cioè chiaro logico come abbiamo fatto tutti 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 ciao 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 Grazie.